Il 2024 sarà un anno importante per i lavori pubblici a Monte Sant'Angelo. Oltre alle grandi opere che procedono, siamo quotidianamente preoccupati della cura giornaliera della nostra comunità, delle arterie principali della nostra comunità. Proseguono infatti i lavori presso la nuova stazione dei Pullman, nella zona del cimitero. Proseguono inoltre i lavori a Palazzo degli Studi, l'importante progetto delle infrastrutture turistiche che dal castello interverremo fino al centro storico della nostra città, così come proseguono i lavori presso l'ostello dei camminatori. A breve riapproveremo il progetto di rimodulazione dei lavori in Piazza Ducadaosta fino a Via Tancredi. A questo si aggiunge il rifacimento di importanti strade della nostra città, come quella in Via della Repubblica, come la strada in Via Manfredi, il viale del cimitero e la zona del nostro ospedale. Strade importanti che verranno interamente rifatte, così come verrà rifatta la strada di Via Sant'Antonio Abate, che porta al quartiere di Via Sant'Antonio Abate, a cui aggiungere altre 15 strade interne nella nostra comunità che verranno rifatte. Strade importanti, strade che noi rifaremo, oltre che per avere una città più curata e maggiormente in ordine, quindi per creare meno di servizio ai nostri concittadini, ci servirà tutto questo per accogliere ancora meglio i turisti nell'anno 2024, in cui Monte Sant'Angelo sarà capitale della cultura della Regione Puglia.